Io lascerei la parola al nostro Presidente per quanto concerne la chiusura del nostro Congresso. Ringrazio i referenti e i loro componenti, immaginate che sono circa 80 colleghi che hanno lavorato, che hanno preparato questo congresso. Un congresso che vuole essere la conclusione di un anno di lavoro e nello stesso tempo uno stimolo per tutti i colleghi per quanto riguarda l'ottica che come Consiglio dell'Ordine abbiamo voluto dare, cioè tradizione e innovazione. Una cosa è certa, l'Ordine vuole diventare di nuovo un punto di riferimento dei colleghi perché due anni di commissariamento hanno portato tremende conseguenze per quanto riguarda l'attività professionale, la figura del biologo. Molte categorie hanno provato a superarci e in questi due anni hanno cercato anche di occupare i nostri spazi lavorativi. noi abbiamo lavorato in quest'anno in emergenza perché al momento dell'insediamento siamo dovuti partire a sprombattuto per l'applicazione dei regolamenti ministeriali, ben sette, non uno, ben sette. dobbiamo fare i regolamenti interni con scadenza di termini, fatto questo abbiamo impostato tutta quanta la nostra politica, devo dare un grazie particolare ai consiglieri che mi hanno supportato e hanno sopportato anche me perché io sono della vergine e quindi sono un tipo un po' puntiglioso e se non vedo le cose che si fanno presto e subito e bene, anche un po' per deformazione professionale, le cose si complicano. Abbiamo lavorato nell'ottica di dare ai colleghi, oltre che un punto di riferimento, la certezza che come ordine noi vogliamo essere presenti e cerchiamo di dare dei servizi. I colleghi adesso hanno a disposizione un ufficio di consulenza legale fiscale e del lavoro che li assiste per tutte le problematiche che ci sono piovute addosso per quanto riguarda le assicurazioni e quant'altro. Spero dal prossimo mese di novembre che entrerà in funzione l'ufficio ICM che curerà la gestione della raccolta dei crediti, purtroppo l'ordine è stato anche chiamato a fare la parte del cattivo perché voi sapete che adesso come ordine noi dobbiamo necessariamente attivare le procedure disciplinari come il lecito disciplinare perché i colleghi che risultano essere non in regola con il problema delle assicurazioni, con il problema per quanto riguarda gli ECM, i crediti ECM e tra un po' anche per i CFP crediti formativi professionali per i colori quali non lavorano nella sanità. E' stato un anno intenso di lavoro, credetemi, che ci ha appassionato. Nello stesso tempo abbiamo cercato di recuperare la rappresentanza che aspetto all'ordine, quindi in seno al COGEAPS, al Consorzio dei Crediti, all'Agenas del Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia per quanto riguarda la Commissione, la conferenza dei servizi dove si vanno ad esaminare le istanze dei biologi comunitari ed extracomunitari per poter lavorare in Italia e adesso ci stiamo anche attivando presso il Ministero della Salute per quanto riguarda la gestione del problema, già ve l'ho accennato, del passaggio a professione sanitaria. Un passaggio che per noi risulta essere, non dico molto travagliato, però abbiamo l'esperienza dei colleghi psicologi che ormai sono circa dieci anni, che sono metà professione sanitaria, cioè a tutela del Ministero della Salute e metà sotto il Ministero della Giustizia perché hanno fatto il passaggio però questo passaggio non è stato poi completato a dovere, quindi vivono sotto la sorveglianza non di un ministero ma di ben due ministeri e se considerate che i ministeri sono quegli elefanti che prima di muoversi ci vuole veramente tanto, immaginate questi colleghi psicologi come si vengono a trovare. Quindi si rende necessario valutare attentamente questo passaggio, affrontare tutti i rischi che come dicevo in questo passaggio è prevista l'abolizione di ben 23 articoli della nostra legge istitutiva e non possiamo essere sereni con l'eliminazione di questi 23 articoli per quanto riguarda questa attività. inoltre noi vogliamo anche a breve fare in modo che i colleghi possano tranquillamente rivolgersi all'ordine e avere le risposte adeguate. L'ordine lo abbiamo potenziato da un punto di vista del personale. C'erano un anno fa sei dipendenti solamente. Adesso ce ne sono in tutto 20 che operano. Stiamo terminando la fase di formazione di questo personale. Quindi abbiamo come dicevo l'ufficio ECM, ci sarà l'ufficio del personale, l'ufficio dei procedimenti disciplinari, quindi abbiamo, stiamo cercando di dare un'organizzazione più consona all'ordine e se avete notato abbiamo rifatto interamente il sito dell'ordine e spero a breve che possiate ricevere, perché sembrano cose facili, ma in realtà sono molto molto complesse, per quanto riguarda la possibilità di accedere direttamente alla vostra anagrafe, vedere la vostra situazione e aggiornare gli indirizzi. Sugli indirizzi, colleghi, ve lo devo dire, una volta per tutte, cercate di dirci quando cambiate casa, quando cambiate residenza, perché può sembrare strano, ma è un grosso problema. Tenete conto che adesso l'ordine con voi comunicherà solo e esclusivamente con la PEC. Noi abbiamo dato a tutti i colleghi un indirizzo PEC perché c'era un obbligo di legge, perché noi come ordine, noi siamo un ente pubblico, abbiamo il dovere e l'obbligo di darvi la PEC, che deve essere usata, quindi dall'ordine non partirà più una lettera, non vogliamo più ricevere una lettera, tutto arriverà tramite PEC. Siamo biologi, risparmiamo la carta, cerchiamo di comportarci da professionisti. La PEC è molto importante, tenete conto che avendo dato a tutti una PEC, attualmente su 45.000 indirizzi ne risultano attivi solamente 16.000. Tutti gli altri che ancora non l'hanno attivati corrono il rischio di farsi arrivare comunicazioni che non aprono e siccome saranno tutte comunicazioni riguardanti l'attività ordinistica, sappiate che a me non interessa che l'abbiate lette o non l'abbiate lette, perché noi abbiamo dei precisi obblighi di legge e dobbiamo necessariamente intervenire, perché se non lo facessimo facciamo omissione di atti di ufficio. Non voglio essere cattivo, però dateci una mano a lavorare bene, perché se l'ordine vi vuole dare un servizio fate in modo che questo servizio sia efficiente, perché spesso leggo che l'ordine non ci risponde o non ci risponde, ma se a noi non ci arrivano, perché utilizzando la PEC noi riceviamo solo PEC, non possiamo ricevere altro tipo di posta. Quindi man mano che adesso passerà il tempo, l'uso della PEC diventerà sempre più stringente e direi unico, a breve sarà pubblicato l'unico indirizzo a cui potete scrivere all'ordine, che è quello del protocollo e vi arriverà la lettera dal protocollo, tutto il resto saranno atti interni dell'ordine. Quindi questo per quanto riguarda, tenete conto che l'attività che sta facendo l'ordine dei biologi non è fatta da nessun altro ordine, non per vantarci, ma sfido chiunque, perché abbiamo parlato con l'ordine dei giornalisti, con i colleghi dei giornalisti e degli avvocati che dicono che per noi ci arriva solamente il MAV da pagare e poi basta. Noi abbiamo fatto anche, messo mano sulla rivista Biologi Italiani, che vedete innanzitutto vi arriva puntuale nel mese di pubblicazione, cosa che prima non succedeva. In più è cambiata la veste non solo tipografica ma anche di contenuti. Siamo passati da uno scarso 7% di lettura, adesso siamo intorno al 40% di lettura. Cioè significa che ci sono colleghi che leggono per intero la rivista Biologi Italiani. Questo vi può sembrare strano ma fino a poco fa molte riviste di biologi italiani, come arrivavano i colleghi le buttavano perché non erano consone per la loro lettura. Oggi questo per fortuna sta venendo e capita sempre molto di meno e sta diventando anche un punto di riferimento. C'è ancora molto da lavorare perché ci sono molte rubriche che devono essere potenziate, tipo l'esperto risponde perché è impossibile che l'ordine possa ricevere ogni giorno quasi 300-350 mail in cui i colleghi chiedono sempre le stesse cose perché non vanno a leggersi la normativa. Ancora oggi ci sono colleghi che si dicono quanti crediti devo fare quest'anno? Cioè è mai possibile che ancora oggi, dal 2000, stiamo a parlare ancora di quanti crediti? Eppure ci sono le FAQ dove ci sono le domande e le risposte. Questo significa che dovendo rispondere a tutti, innanzitutto non si possono rispondere a 350 mail al giorno, voi lo capite, è impossibile. E nello stesso tempo si cerca di dare le risposte, diciamo, a quelle più importanti. Tenete conto che quando scrive l'ordine, siccome scrive su carta intestata, quelli sono pareri e quindi ogni parola deve essere attentamente valutata perché spesso sono dei pareri utilizzati in controversie e quindi si rende necessario l'uso, l'affidamento all'ufficio legale e non è che si possa rispondere dall'oggi al domani. Quindi anche per questo aspetto se c'è un maggior utilizzo del sito da parte vostra diventa anche più facile per noi poi assolvere a questo servizio. Tenete conto che a rispondere non sono solamente io o i consiglieri, tutti quanti i referenti delle commissioni rispondono, dicevo. Quindi rendetici un po' più facile anche voi la vita perché in questo modo possiamo essere presenti. Ci stiamo attivando per un'altra iniziativa. Il nostro codice deontologico ha la sua età, è diventato vecchiotto perché con le nuove procedure del procedimento disciplinare si rende necessario dover mettere mani al codice deontologico. Col codice deontologico dovrà essere anche rivisto il recente regolamento del consiglio di disciplina perché si dovrà adeguare al nuovo codice deontologico. Abbiamo nominato un esperto, un professor Vito Tenore che chi ha letto la sua attività in questo settore è uno dei maggiori esperti e nominato a una commissione di colleghi che su questo codice deontologico andranno a lavorare. E si spera entro gennaio o febbraio di dar vita a questo nuovo codice deontologico con il nuovo regolamento del consiglio di disciplina. Noi stiamo facendo un po' i cattivi nel senso che, come vi dicevo, in questi due anni la categoria è andata un po' allo sbando molti colleghi hanno approfittato e si stanno comportando in modo non etico. Vogliamo far capire che se vogliamo essere presenti sul mercato dobbiamo essere eticamente corretti e credibili. Quindi tutti coloro i quali si permettono sui blog di fare pubblicità con tariffe basse noi li perseguiamo non perché le tariffe siano basse ma ci devono dimostrare che qualche tipo di qualità di prestazione danno al paziente che chiede una dieta e paga 19 euro oppure si fanno 20-25 analisi a 19 euro me lo devono solo dimostrare una volta che mi dimostrano questo va bene ma se non riescono a dimostrarlo lì il consiglio di disciplina deve intervenire perché qui stiamo parlando di tutela della salute umana non dimentichiamo questo particolare non ci possiamo permettere il lusso di uscire sui giornali perché poi un cattivo biologo fa tutta la categoria dei biologi cattiva quindi su questo noi adesso stiamo insistendo molto così come ho già detto anche c'era presente il colonnello dei NAS noi stiamo inviando tutti gli abusi di professione ai NAS in tutta Italia e lo stiamo facendo quindi tutti i colori quali soprattutto nel settore della nutrizione fanno abuso della professione di biologo nutrizionista sono stati, perlomeno tutto quello che ci arriva sono stati denunziati poi tenete conto che i tempi non sono immediati come qualche collega dice eh ma l'ordine impiega mesi è perché la pratica deve essere istruita deve essere resa credibile in modo tale che non deve essere poi un boomerang quindi si rende necessario tutto un lavoro di preparazione affinché gli stessi carabinieri dei NAS possano poi operare in modo sicuro e tranquillo quindi questa è una parte importante invito poi adesso noi stiamo già lavorando per gli obiettivi formativi del prossimo anno anzi approfitto della presenza dei consiglieri e dei referenti delle commissioni per dire che entro il 15 di novembre dobbiamo presentare al provider gli obiettivi quindi una programmazione da fare a tempi brevi un'altra cosa importante poi chiudo entro il 31 dicembre noi dobbiamo ricevere le famose terne per gli esami di Stato colleghi è necessario che diamo il nostro contributo per andare a far parte delle commissioni grazie degli esami di Stato questo perché ogni anno dobbiamo fare i salti i salti mortali per trovare i nomi dei colleghi disponibili a far parte delle commissioni è molto importante andiamo a valutare i nostri colleghi vi ho già detto che l'esame di Stato non è a favore dei giovani colleghi perché i colleghi possono venire da aree di formazione e nell'ambito della commissione possono trovarsi in difficoltà perché è un terno all'otto perché se vengo con una laurea conseguita in scienza nutrizione all'esame in commissione posso trovare il genetista e il genetista mi farà l'esame sulla genetica e corro il rischio di fare un buco corro il rischio di non superare l'esame quindi si rende necessario noi cercheremo di impostare le terne in modo tale da dare le diverse specialità nutrizionista lavoratorista ambientalista e così via in modo che sperando che il Miur possa accogliere il nostro suggerimento da formare una commissione che i cinque componenti abbiano le competenze necessarie per supportare al meglio le tesi del collega ultima cosa colleghi a breve ci sono ci saranno le elezioni dell'Empab veramente già ci sarebbero dovute essere le l'indizione delle elezioni ma stranamente ancora non si fanno non voglio fare polemica all'Empab è necessario essere presenti di fatti noi come gruppo presentiamo una lista una lista dove vogliamo fare lo stesso tipo di lavoro che stiamo facendo all'ordine cioè innanzitutto garantire ai giovani colleghi una pensione se tenete conto che molti in questo periodo stanno prendendo pensioni da 30 euro potete rendere conto quasi della totale inutilità dello stesso ente di previdenza perché chi riceve 30 euro di pensione manca le sigarette anzi se lo deve far passare il vizio del fumo ci sono tante possibilità per aumentare la previdenza tenete conto che solo in questo periodo l'Empab sta allargando i cordoni con altre concessioni campagna elettorale ovviamente però noi intendiamo essere intendiamo anche lì andare a ristrutturare gli uffici perché lì c'è una vecchia gestione un vecchio andazzo ci sono delle persone che erano all'ordine e che con l'arrivo o mio sono state mandate via non allontanate mandate via quindi intendiamo anche lì essere presenti non io perché ho l'incompatibilità però ciò non toglie che dobbiamo necessariamente fare in modo che l'Empab sia utile al collega e non il collega utile all'Empab quindi quando ci saranno le indizioni delle elezioni non non vi piccate se vi arriveranno dei messaggi o sul sito parallelo che abbiamo all'ordine trovate una campagna elettorale con i nominativi del nostro gruppo noi spero che in quest'anno di attività abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e le potenzialità che abbiamo davanti a noi permettetemi di ringraziare tutti i colleghi i referenti delle commissioni permettetemi di ringraziare il consiglio di disciplina e il suo presidente il presidente Elisabetta Argenziano del consiglio nazionale con tutti i colleghi perché tutti stiamo concorrendo affinché l'ordine sia nonostante la grande presenza di persone risulti essere efficiente e se non altro vicine alle vostre aspettative dateci tempo dateci fiducia e qui ve lo dico noi perseguiremo continueremo a perseguire la politica a favorire i giovani e l'anno prossimo che ne dicono i miei colleghi che non vogliono io cercherò di fare un congresso a Otranto nella terra di Puglia ecco già arrivano i foglietti per dire no non è possibile e così via quindi se ci riusciamo nel mese d'ottobre così si possono fare i bagni visto che ancora ci abbiamo 30 gradi ma a parte questo il grande Salento merita questo in ultimo un grandissimo grazie va al personale dell'ordine che senza la loro presenza tutto questo quello che vedete non si sarebbe potuto realizzare perché tutto il personale dell'ordine ha pensato all'organizzazione alla gestione perché noi gestiamo facciamo tutto noi nell'ottica di risparmiare e quel risparmio possa essere poi dato sotto forma di formazione ai colleghi ringrazio voi che avete avuto la pazienza di sentire i relatori ringrazio gli illustri relatori e abbiamo voluto con la presenza di Robert Gallo e del collega che ha lavorato alla Concordia farvi vedere quanto il biologo possa diventare ed essere importante nei momenti di crisi quindi era uno stimolo che volevamo dare volevamo sollecitare tutti quanti a credere ancora di più nella nostra professione perché è vero che alcuni si iscrivono a biologia perché magari vanno a buca in medicina però la maggior parte della totalità si iscrive a biologia per il grande amore che si ha per la biologia bene colleghi sto diventando vecchio mi è emozione grazie a tutti voi e arrivederci all'anno prossimo grazie grazie a tutti